Finalmente sono disponibili nuove informazioni su Jurassic Park Survival! Dopo averci mostrato un trailer molto adrenalinico lo scorso dicembre con tanti filmati e pochi spezzoni di gameplay, finalmente gli sviluppatori hanno deciso di sbottonarsi un po' e rivelarci alcuni dettagli sul gioco. Sappiate che sicuramente lo giocherò, non appena ci saranno delle novità su questo titolo vi avviserò caricando dei nuovi contenuti, quindi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per ricevere le notifiche così non rischiate di perdervi quei video e se siete fan della saga mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel mi piace. Per chi si fosse perso il video precedente dove analizzavo il trailer ve lo lascio nella sezione commenti qui sotto al video. La storia sarà ambientata secondo indiscrezioni il giorno dopo la fine del primo film. La protagonista è la dottoressa Maya Yoshi, scienziata della InGen che non è riuscita a evacuare l'isola e che quindi dovrà cercare di sopravvivere con un intenso mix di stealth e azione agli spaventosi incontri con i dinosauri. Questa di base è la trama del gioco. Durante un'intervista i responsabili del videogame hanno comunicato che i giocatori, oltre ad esplorare luoghi già noti e visti nel film, come per esempio il centro visitatori e il paddock del T-Rex, potranno esplorare anche zone completamente nuove e non apparse nella pellicola, quindi che non facevano parte del tour fatto dai protagonisti o con lavori in corso interrotti dalla tempesta. In fondo se ci pensate, Grant, Malcolm e gli altri personaggi, se tutto fosse andato secondo i piani, sarebbero rimasti sull'isola. Cosa avrebbero potuto vedere? Dove avrebbero soggiornato? Il team di sviluppo ha lavorato per ricreare l'aspetto dell'isola dopo gli eventi del film e come sarebbe apparso il tutto dopo la distruzione causata dalla tempesta e dagli animali in libertà. Oliver Hollis Lake, direttore creativo del gioco presso Saber Interactive, ha anche confermato che il gioco conterrà dei nuovi personaggi, oltre a Maya, la protagonista. Non ci è dato sapere se però li potremo utilizzare o potremo solamente interagire con loro. Alla domanda se ci saranno delle nuove specie di dinosauri, oltre a quelle viste nel trailer e nel film, la risposta è stata abbastanza ambigua. Diciamo che hanno utilizzato una delle battute del film, Life Finds A Way. Personalmente spero che abbiano deciso di inserire un buon quantitativo di animali per garantire un'ottima esperienza di gioco. Per quanto riguarda il gameplay, di cui per il momento abbiamo visto pochissimo, da come è stato descritto assomiglierà a quello di Alien Isolation. Quindi dovremo stare attenti e in alcuni casi pianificare le mosse successive, controllando in anticipo i percorsi. Ci saranno anche momenti in cui il giocatore dovrà muoversi con cautela, nei vari ambienti, per evitare i predatori. Maya, la protagonista infatti, non è né un super uomo, né un eroe d'azione. Per lei ci sono rischi reali dietro ad ogni angolo, e si dovrà utilizzare un misto di intelligenza, grinta e pazienza per superare le numerose sfide presenti sull'isola. Analizziamo un attimino le foto che sono state pubblicate. Si tratta di screenshot presi dall'alpha del gioco, quindi se notate qualcosa di strano non preoccupatevi, verrà sistemato sicuramente. Nella prima vediamo Rexy sullo sfondo, che probabilmente vagherà libera sull'isola. Occhio alle aree aperte dove magari sarà facile incontrarla. E in primo piano alcune piante che insieme ad altre comporranno la vegetazione di Isla Nublar. Devo dire che la qualità è già molto buona, si vede che fin da subito c'è cura nei particolari. In questa seconda immagine possiamo notare i tre veloci raptor del film. O meglio, dovrebbero essere quelli del film. Uno, se non sbaglio, riesce a fuggire dalla cella a frigo della cucina. Alla fine del trailer, infatti, la porta si apre e fin qui, ok. Lex comunque l'aveva chiusa a chiave, quindi al massimo l'avrebbe potuta buttare giù e non aprirla normalmente, ma sorvoliamo. Ma gli altri due? Qui c'è un problema di continuità, perché alla fine di Jurassic Park il Rex li uccide. Come fanno ad essere ancora vivi? Non è che magari ci sono altri veloci raptor liberi sull'isola, visto che nel romanzo i protagonisti visitano un nido di questi animali. Però a questo punto non avremo a che fare solo con loro tre, ma con molti altri. In ogni caso, se sono solo tre, mi ricordano moltissimo i tre veloci raptor di Jurassic World Aftermath Collection. Altro titolo molto simile a questo, che nel frattempo vi consiglio di recuperare se non l'avete mai giocato. In questa immagine, invece, vediamo quello che sembrerebbe uno dei bunker di Jurassic Park. È una concept art che ci permette di capire come potrebbe apparire esternamente e potrebbe essere quello dove si rifugiano i protagonisti. Vediamo la jeep di Jurassic Park parcheggiata di fianco all'entrata. Speriamo di poterne guidare una. Nell'ultima immagine vediamo la sala dove viene spiegato ai visitatori come vengono creati i dinosauri. Se è stata inserita nel gioco, speriamo di poter accedere ai laboratori dove sono presenti vari embrioni e uova di dinosauro. Vi immaginate se becchiamo il piccolo veloci raptor del film? Voglio farvi notare un'ultima cosa. In tutte le immagini e nei pochi spezzoni di gameplay che abbiamo visto, è sempre notte e piove molto. La vicenda sarà ambientata sempre di notte o durerà solamente una notte? Io spero che la longevità del gioco sia buona e che non mi buttino sul mercato un titolo che si può finire in 7-8 ore massimo. Alien Isolation per esempio ne durava 15 e così potrebbe andare bene. Sarebbe interessante avere all'interno del gioco degli eventi random per mettere alla prova il giocatore e rendere l'avventura più interessante. Vi faccio un esempio pratico. Devo attraversare un'area dura? Posso beccare il tirannosauro, i veloci raptor oppure dei grandi erbivori, a seconda dei casi. Il titolo sarà in prima persona e credo che si sia optato per questa visuale per far immergere ancora di più il giocatore nelle atmosfere dell'isola. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita però spero che si prendano tutto il tempo necessario per realizzare un buon prodotto piuttosto che magari buttarlo in fretta e furia sul mercato per soddisfare l'impazienza dei giocatori. È confermato comunque che non uscirà nel 2024, alcuni dicono addirittura 2026. Piattaforme confermate, pc, xbox, serie x, serie s e ps5. Che ne pensate di Jurassic Park Survival? Lo giocherete? Fatemelo sapere nel box commenti qui sotto e noi ci rivediamo presto in un prossimo video. Grazie a tutti.